Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Oggi l'angolo serie B, ultima giornata della stagione regolare, turno numero 38, ho scelto, ho in programma di seguire qualche partita come sempre, parto dalle formazioni che ho seguito a lungo tutto il campionato, la gara che credevo avesse più ragione di essere vista era Pisa contro Spal. Quindi come prima gara della giornata ho scelto proprio questa sfida, devo dire una scelta della quale un po' mi sono pentito, il Pisa ha perso 2-1 al termine di una partita credo inqualificabile che rappresenta però perfettamente quello che è stato il cammino della squadra di D'Angelo nel corso del girone di ritorno. La notizia più bella per entrambe le formazioni penso sia semplicemente che questo torneo sia finalmente finito, solo che mentre per la Spal è finito anche male perché la squadra retrocesso in Serie C, la squadra di Oddo oggi però è riuscita a giocare una partita di grande dignità, di buoni valori anche tecnici, messa in campo piuttosto bene, i giocatori si sono impegnati, si sono sbattuti e hanno ottenuto un successo inutile, ma assolutamente meritato e che testimonia però credo quello che possa essere un rimpianto della stagione della Spal. Io ho visto la squadra diverse volte, non con continuità assoluta lungo tutto il corso della stagione, una stagione che ha visto tre allenatori alternarsi sulla panchina della squadra di Ferrara, credo però che la follia sia stata allontanare e venturato. L'interregno di De Rossi è stato disastroso e l'arrivo poi di Oddo, francamente con tutto quello che ha fatto fino ad ora Oddo nella carriera, non penso che potesse portare poi questi grandissimi stravolgimenti di carattere positivo. La Spal non credo abbia una rosa da squadra da retrocessione, credo sia una serie di errori infiniti fatti nel corso della stagione, c'è poco veramente da salvare, e però insomma almeno in quest'ultima partita che appunto vale quello che vale, però quantomeno la squadra ha saputo offrire una prestazione positiva e ha portato a casa anche tre punti. Per il Pisa invece la conclusione è quella degna di un girone di ritorno veramente orribile. Io l'ho detto nell'ultimo video, non mi nascondo, l'ho sempre detto lungo tutto il corso del campionato, mi sono dovuto mano a mano arrendere anch'io, io sono comunque ancora convinto che il Pisa, io avevo indicato il Pisa come la squadra che sarebbe salita in Serie A vincendo i play-off, e nel girone di Anata Nero assolutamente sicuro. Poi progressivamente le certezze si sono un po' sgretolate con un girone di ritorno orribile che però non pensavo mai avrebbe potuto concludersi con addirittura l'incap non qualificarsi per i play-off. Alcuni amici, Massimo, Lorenzo, nei commenti ai miei video della settimana scorsa, avevano indicato che però potesse essere forse una migliore idea quasi, quella di non qualificarsi i play-off per non oscurare un po' i termini di quello che è una sorta di fallimento sportivo come è stata questa stagione. Quindi magari può anche essere vero, mi avete anche, ci avevo pensato anch'io rispetto a questo vostro pensiero, e devo dire ci può stare. Non credo che qualificarsi di giocare magari anche un solo turno di play-off avrebbe cambiato poi in termini di bilancio le valutazioni di questa stagione. Ora credo che il Pisa debba fare una cosa soltanto, ovvero imparare dagli errori che ha fatto in questa stagione, uno su tutti le incertezze dello scorso anno, sull'allenatore, sul mercato, sugli acquisti dell'ultimo momento. Ora, come fanno le squadre NBA nel campionato americano di pallacanestro? Finita la stagione si fa subito un bilancio veloce, se c'è da allontanare qualcuno, da cambiare, si fa subito, non si perde tempo. Ok, la Serie B è un campionato molto bello, molto interessante, non va dimenticato che la SPAL tre anni fa, quando c'era lockdown, giocava ancora in Serie A e ora è retrocessa addirittura in Serie C. Quindi mantenere anche la categoria non è assolutamente un disonore. Quello che al Pisa comunque è riuscito quest'anno e credo sia comunque un grande merito di Danger, perché per come era partita la stagione addirittura l'ipotesi di scendere in Serie C avrebbe potuto realizzarsi. Però ora il Pisa lo scorso anno ha mancato la promozione in Serie A solo dei supplementari contro il Monza, con quell'erroraccio incredibile di Birindelli, con tutto quello a favore del Monza che è successo nel corso del campionato e dei play-off stessi. Il Pisa credo abbia tutte le carte in regola per poter ambire a salire di categoria, però c'è bisogno di un progetto serio, c'è bisogno di ripartire, di capire davvero cosa è successo quest'anno, quello che da qui, da fuori, non so purtroppo. Mi piacerebbe molto che i giocatori, visto che mi sono espresso anche in trasmissioni televisive alle quali ho partecipato, parlando sempre molto bene del Pisa e dicendo sempre il Pisa come squadra per me favorita, vorrei capire che cosa è successo nello spogliatoio, vorrei capire che cosa è successo a livello fisico in questo dannato girone di ritorno. Come detto, per cui ora credo l'obiettivo sia solo uno, idee chiare, ripartire, pulire tutto ciò che non è andato bene, se ci sono problemi nello spogliatoio risolverli, capire subito chi sarà l'allenatore, organizzare la stagione nuova e ripartire. Quanto meno la categoria c'è, non c'è questa che sarebbe potuta essere un appendice divertente, fare i play-off, giocarsi una partita sarebbe stata in trasferta, magari tentare colpaccio, perché no, allungare un po' una stagione e dargli un senso migliore di quello che ha avuto. Così è un'incompiuta, è una delusione allucinante. Della partita c'è pochissimo da dire, il Pisa, traccheggiando, ha cercato di controllarla nella prima parte, l'unica occasione vera però è un colpo di terza di Tramoni con la parata di Pomini, poi la Spal comincia a spingere un po' di più su un calcio d'angolo, colpisce una traversa con Rabi e poi trova il gol del 1-0 con Celia, Calabresi lentissimo ad andare a chiudere. Il gol del 2-0 è in apertura di ripresa, è l'ennesima porcheria di questo scibile, di questo incredibile mondo che è diventata la Moviola, è il calcio della Moviola, un rigore che non ho capito francamente se sia stato concesso per la spinta e forse potrebbe starci, anche se penso di no, o per la mano. L'unica colpa di Calabresi che era di schiena è di avere ancora le due braccia. Ragazzi miei, siamo a questo livello, ci dobbiamo amputare per poter giocare a calcio. Il rigore secondo me è ridicolo e con questo metro ce n'era uno anche per il Pisa, perché su un calcio di punizione qualche minuto più avanti c'è un tocco di mano di un giocatore della spalla in barriera e perché lì non è calcio di rigore queste braccia, è una parte del regolamento che andrebbe chiarito veramente un po' meglio. Il gol del 2-0 quindi lo mette Moncini dal calcio di rigore, il Pisa trova poi l'1-2, un Pisa svogliato, che sbaglia passaggi, che non costruisce occasioni da gol, veramente in una serata disastrosa, trova poi il gol del 2-1 con Tramoni, una buona conclusione che spiazza Pomini, poi ci prova un pochino nel finale con delle mischie, un po' di situazioni confuse, ma non trova il gol del pareggio che oltretutto beffa delle beffe, il Pisa era fuori dai play-off, non aveva più il destino nelle proprie mani, però naturalmente il Palermo non ha vinto, quindi vincendo il Pisa avrebbe potuto avere le possibilità di entrare ancora nei play-off. Però questa stagione è andata così, il finale è assolutamente a tono con il resto di quello che è stato questo girone di ritorno, del quale sono profondamente deluso. Veniamo alle pagelle di questa sfida, che sono molto basse, Nicolas 6, perché non trovo responsabilità sue, 4,5 a Calabresi, 6 a Caracciolo, 5 a Barba, Barba ha un'involuzione allucinante, 5 a Beruato, 4 a Gargiulo, veramente l'acquisto più incomprensibile, anche se la gioca con Moreo, di questo campionato, 5,5 a Noggi, 5,5 a Mastino, 5 a Sibilli, 6 a Tramoni per il gol, e 4 per un Torregrossa veramente spaisato. Dei subentrati, 5,5 a Giozzi, 5 a Zuelli, 6 a De Vitis, 5 a Moreo, e 6 all'altro Tramoni. Mi spiace, ma stavolta è 4,5 il voto a Mr. D'Angelo. Per la Spal, 6,5 a Pomini, Fiordaliso si è fatto male, è uscito subito, 6,5 a Dickman, 6,5 a Varnier, 7 a Meccariello, un giocatore che mi piace molto, 6 a Dallemura, 7 a Celia, 6 a Tuniov, 6,5 a Murgia, 6 a Maestro, 6,5 a Moncini, 6,5 a Rabi, e 7 a Oddo. Bravo, la partita è il voto è 5, a Camplone è il voto 4,5. Mi piace l'arbitro non permaloso, che non ammonisce a ogni protesta, però anche subire 98-96 minuti di proteste da parte di ogni giocatore, in primis Spomini e Meccariello, senza colpo ferire, mi sembra eccessivo dall'altro punto di vista. Grazie ragazzi, attendo i vostri commenti, iscrivetevi al canale, poi faremo un video di commento finale sulla stagione di ogni singola squadra e sarà quella l'occasione poi di salutarci. Grazie a tutti, un bacio e alla prossima. Ciao da ROX!